Alcuni lo stavano aspettando. Alcuni lo avevano solo sognato. Oggi è finalmente diventato una realtà. È nato il primo canale televisivo via satellite interamente dedicato all'alta tecnologia. Tutti i programmi sono trasmessi in digitale. Il massimo della qualità video con audio stereo hi-fi. È nato Technology Channel. Technology Channel è un canale tematico dedicato 24 ore al giorno a informatica, nuove tecnologie, aerei, spazio e fantascienza. È una rete televisiva per tutti coloro che hanno la passione nell'alta tecnologia. Ampio spazio è dedicato ai magazine. Computer Planet è un video magazine di taglio giornalistico sull'informatica. Ogni sette giorni propone approfondimenti, videoprove, guide all'acquisto, tavole rotonde, interviste, reportage e tutte le news del settore. Al mondo dei videogiochi è dedicato il magazine Video Gaming World. Anteprime e prove di videogiochi. Superclassifica. Interviste ai creatori di videogame. Trucchi e notizie. Internet World è una guida all'universo di Internet. Dai network computer, ICT web, più curiosi e interessanti. Agli amanti del meglio della tecnologia è dedicato iTech World, magazine che affronta temi come robotica, intelligenza artificiale, teleesperienza, nuove fonti di energia e scoperte scientifiche. Le punte di diamante della tecnologia, illustrate con speciali, dibattiti e rubriche. Audio Video Maniac è invece dedicato a videocamere e videoregistratori digitali, hi-fi esoterici e DVD. Presentazioni, videoprove e anteprime di tutto il meglio dell'audio video. Se c'è un'espressione della tecnologia che rappresenta il massimo delle conquiste umane, questa è sicuramente l'arte del volo nel cielo e nello spazio. Space è un magazine fatto di interviste, dibattiti, inchieste, news e filmati esclusivi sulla conquista del cielo e dello spazio. Dai disastri aerei, ai nuovissimi mezzi in progetto per il futuro. Da Ustica, alla conquista di Marte. Ma c'è anche chi ha trasformato la sua passione in realtà. E Ali Blue è una trasmissione dedicata a chi vola o vorrebbe farlo. Mentre la scienza permette la tecnologia di oggi, la fantascienza anticipa la tecnologia di domani. Ed è per questo che abbiamo creato Blue Book, il primo video magazine tra scienza e fantascienza che affronta temi scottanti come avvistamenti di UFO, incontri ravvicinati, incidenti inspiegabili, visioni del futuro e miti del passato. Nessun'altra rete televisiva tematica propone video magazine in questa quantità prodotti in esclusiva per il pubblico italiano. L'offerta televisiva di Technology Channel è davvero ricca. E ai magazine si aggiungono dossier, telegiornali, interviste, reportage, giornate tematiche ed eventi. I documentari sono in prima visione televisiva e riguardano gli aspetti più spettacolari dei temi trattati dalla rete. Ma Technology Channel non è solo magazine, documentari, informazione di qualità. Infatti vi intratteniamo anche con selezionati film di fantascienza, approfonditi con schede critiche e dibattiti. Ogni giorno la programmazione di telefilm propone serie televisive del passato, ormai diventate dei veri e propri cult. Non mancano telefilm recentissimi, alcuni dei quali mai trasmessi in Italia. Technology Channel è informatica, tecnologia, aerei, spazio e fantascienza. È nata la televisione che hai sempre sognato. Non aspettare. Abbonati oggi. Grazie. Grazie a tutti i nostri amici.